Ci troviamo in Viale della Repubblica, la nuova location per questa nuova 68esima edizione della Festa dei Fiori, una nuova location dovuta al rifacimento della pavimentazione in Piazza del Popolo, una novità accolta con grande entusiasmo da parte degli espositori. Anche perché è più spazioso, molti clienti, comunque tutti i cittadini che ci siamo venuti a trovare, i nostri clienti, tutti quanti hanno detto che qui è meglio, è più bello qua perché è più grande, hanno modo di camminare perché c'è più spazio e la cosa, se devo aggiungere qualcosa di più, è che anziché il lato che abbiamo occupato in questo momento, sarebbe migliore passare dall'altro lato. La metà degli espositori, abbiamo già parlato, praticamente sono contenti di restare qua, quindi la piazza ve la lasciamo tutta. Il riscontro che abbiamo avuto è stato molto positivo, sia da parte dei clienti che anche degli espositori, ci siamo trovati bene, gli spazi sono più ampli di quello che potevano essere in piazza e il riscontro quindi è indubbiamente positivo. C'è stata un'affluenza maggiore rispetto agli ultimi anni, anche condizionati dalla pandemia? Sicuramente, gli ultimi due anni abbiamo sofferto ma in generale come tutti perché comunque le restrizioni hanno portato a limitare l'afflusso e invece questa possibilità di poter girare tranquillamente senza più mascherine e quant'altro ha dato la possibilità alla gente di venire e di valutare quello che gli serviva. Il giudizio è positivo, diciamo che c'è qualche cosa da mettere a punto nell'organizzazione perché chiaramente la situazione in piazza ormai aveva un suo cliché, un suo layout per dire che quest'anno è mancata l'acqua, c'è stato un allestimento un po' così precario diciamo così ma chiaramente avendo le piante l'acqua per noi è un'esigenza fondamentale. Però nel complesso siamo stati anche fortunati perché venerdì ha fatto un diluvio e invece le giornate di fiera sono state molto belle. C'è un fiore che avete venduto di più rispetto agli altri? I bulbi sono un articolo che proponiamo sistematicamente ed è molto richiesto soprattutto durante la fiera. Cerchiamo di portare cose un po' particolari e non dozzinari però diciamo il bulbo è quello che è la perra maggiore e anche le piante aromatiche sono molto molto richieste perché hanno sempre quell'aspetto di utilizzo, di utile per la cucina e quindi sono molto apprezzate. L'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti sono tutti problemi che hanno riguardato e che stanno riguardando anche il settore florovivaistico. Credo che non ci sia un settore che non è stato colpito tanto inutile energia da noi, gasolio per le serre per quanto si cerca sempre di consumare di meno però purtroppo i costi sono alti per cui si cerca comunque di non aumentare perché aumentando i prezzi è chiaro che dopo il popolo la gente non compra. Se un ciclamino costava 4 euro, oggi lo metti 6 è chiaro che i prezzi dopo, il popolo reagisce male invece di comprarne 10 ne compra 2, 3 ne compra di meno. Anche noi siamo stati toccati da questa cosa e paradossalmente il nostro settore ancora non ne ha risentito moltissimo perché purtroppo il costo del carburante inciderà da qui in avanti sulle culture che andranno a riscaldarsi. Quelle che sono state coltivate in questo momento ancora sono delle culture che sono state fatte a freddo quindi a una temperatura ambiente per cui hanno inciso un pochettino di meno però da qui in avanti ci ritroveremo ad avere ulteriori aumenti soprattutto su delle coltivazioni tipo le stelle di Natale che hanno bisogno di riscaldamento e non vogliono temperature basse e l'inciderà. Ci sono stati aumenti sui concimi, sulla plastica per cui i vasi, sui terricci un po' meno ma quello che preoccupa molto tutto il settore è adesso arriva l'inverno per cui le produzioni che richiedono riscaldamento nelle serre avranno dei costi abbastanza imprevedibili o comunque sicuramente diversi da quelli degli anni scorsi sicuramente le prospettive non sono molto belle.